Dopo il grande successo della prima edizione, ritorna il concorso che vede protagonista la bellezza e non solo. Ragazza Weekend Dance, seconda edizione. Partecipa anche tu, invia una mail a stefanopiacenti-weekenddance.com o telefona allo 081 58 65 668. Il primo casting si terrà l'11 giugno 2012 alle ore 11, a bordo della nave MSC Fantasia. attraccata presso il terminal crociere della stazione marittima Porto di Napoli. Non mancare! Ragazza Weekend Dance, seconda edizione. L'avventura continua.